Il professor Bruno Fedi, membro del comitato scientifico di associazione vegani italiani Olus e movimento antispecista Uomo, altri animali, elenco di falsità. Ti passo subito, il microfono è acceso, vai. Signore e signore, vi ringrazio per la vostra presenza. Mi chiamo Bruno Fedi, sono un professore di urologia dell'Università di Roma. E sono anche uno dei primissimi fra coloro che si sono occupati del problema del rapporto dell'uomo con gli altri animali. Probabilmente il primo, perché Hans Ruesch si occupò di vivisezione, ma non del rapporto globale dell'uomo con la natura e gli altri animali. Volevo questa mattina fare un semplice elenco delle falsità inoppugnabili, cioè che non si possono negare, che vengono dette a proposito del rapporto uomo-animali. Ma devo anche dire due parole introduttive. La prima è che questo rapporto dell'uomo con gli altri animali deve assolutamente essere cambiato. Non è possibile pensare che l'uomo sia il padrone della natura e che possa distruggere la natura come sta facendo perché ha avuto questo incarico per iscritto da Dio. 1500 anni prima di Cristo sul Sinai il Padre Eterno si è disturbato a mandarcelo per iscritto. In realtà noi abbiamo scoperto con Ruesch, con Imperatrice Nuda, la crudeltà del rapporto fra uomo e altri animali. Poi abbiamo scoperto che questo rapporto non è scientifico con Croce, poi abbiamo scoperto quali sono le cause genetiche di questo fatto perché sono stato proprio io a chiarirle scientificamente. Poi abbiamo scoperto l'aspetto evolutivo del rapporto dell'uomo con gli altri animali. Non è statico, non può essere lo stesso rapporto che c'era 5 milioni di anni fa. Il rapporto di oggi è diverso, è evolutivo. Poi abbiamo scoperto l'aspetto sociale. Quindi abbiamo scoperto così tante cose nuove scientificamente che tutta la situazione è completamente cambiata. Vi parlo anche come consulente scientifico della più antica associazione animalista italiana, la LEAL, la quale ha per scopo di concretamente aiutare la ricerca alternativa, raccoglie quattrini in tutta Italia e li distribuisce in borse di studio alle ricerche alternative. Vi mostro l'ultima ricerca, l'attribuzione di una borsa di studio che sarà controllata dalla dottoressa Penco dell'Università di Genova e alla quale io ho dato il mio parere positivo spingendoli a dare questo denaro per ricerche alternative. Vi dirò anche che come Renzi si è buttato un secchio d'acqua gelata in testa per svegliarsi noi invece non ci siamo buttati nessun secchio d'acqua gelata in testa. eravamo già svegli, sapevamo già che questa ricerca su animali non è attendibile e non essendo attendibile vanno finanziate le ricerche alternative. Chiedo alla LEAL di indire una raccolta di fondi in tutta Italia attraverso tutte le sezioni per finanziare questo tipo di ricerca. Adesso vi leggerò invece l'elenco delle falsità. Un elenco di falsità alla Saviano, qualcuno l'avrà visto da Fazio fare quell'elenco di grande successo. Vi chiedo scusa ma lo leggerò perché le falsità sono così tante che non sarei capace di ricordarle tutte quante. Quindi per la prima volta nella mia vita invece di parlare leggo Queste falsità sono tutte inoppugnabili ma non per questo sono meno false. 1. Gli animali sono uguali a noi, lo dice Garattini per quello avendo un sistema circolatorio, un sistema respiratorio, un sistema digerente si può sperimentare sugli animali. 2. Gli animali sono diversi, io non sono un topo di 80 chili né voi siete dei topi di 90 o di 50. 2. Gli animali sono diversi da noi, questo lo dice Monsignor Sgreccia Gli animali sono diversi da noi perché 3 non hanno anima ma questo non è un argomento scientifico Monsignor Sgreccia può credere che sia un argomento scientifico ma non lo è. Io ho sezionato 4.000 cadaveri non l'ho mai trovata, non c'era. È vero che sono diversi ma sono diversi geneticamente così tanto che ogni ricerca fatta su di loro non ha la minima corrispondenza sono diversi anche i topi dai ratti per esempio i topi e i criceti i topi sono sensibili alla diossina i criceti no se si fa un'esperienza sui criceti la diossina è acqua fresca quindi ne possiamo mangiare quanta ci pare invece no, agli uomini provoca tumori li fa crepare 4. Gli animali sono macchine questa è una bestialità inventata qualche secolo or sono da una persona altrimenti intelligente altrimenti intelligente potrebbe anche voler dire stupido però sicuramente molto colta Cartesio ma ripetuta quasi con le stesse parole nel 1900 da un papa Pio XII gli animali sono macchine gli animali non sono macchine basta averne squartato uno basta passare davanti a un macellaio per vedere che non sono macchine gli animali non sentono lo dice Pio XII le urla di un animale squartato sono come lo stridio di una macchina delle ruote che girano e stridono non è assolutamente vero il gridio dell'animale è dovuto al terribile dolore che provoca e che lui prova è dovuto al fatto che l'animale ha delle strutture somigliantissime alle nostre per sentire gli animali la differenza fra noi e gli altri animali è un fossato incolmabile sette anche questa la dice Monsignor Sgreccia la differenza fra noi e loro è un fossato incolmabile in questo caso il Monsignore con grande modestia si arroga le qualità di indovino indovina che nei milioni di anni a venire gli animali non cambieranno ma il cavallo negli ultimi centinaia di migliaia di anni è divenuto da un animaletto grande così al bestione enorme che è adesso tutti gli animali cambiano l'uomo il nostro progenitore più antico conosciuto gli Ussi per esempio aveva una capacità cranica di 350 cm3 era alta 1,20 m ma io non sono alto 1,20 m e non ho una capacità l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio io mi domando per quale ragione il Padre Eterno fra le infinite forme che esistono dovrebbe aver scelto proprio quella dell'uomo e a che cosa gli sarebbero serviti il naso la bocca le orecchie ma anche di peggio l'apparato digerente il retto a che servono? ma è un'assurdità così evidente che non si può proprio sostenere taluni animali sono fatti a somiglianza del diavolo quindi si può anche sperimentare su di essi oppure bruciarli per i loro peccati ma il peccato lo dice la stessa Bibbia se il peccato c'è stato l'hanno commesso Adamo ed Eva i gatti, i cani, i cavalli, i buoi e i poveri maiali non c'entrano proprio nulla la ricerca biologica si fa sugli animali tutto il resto non è ricerca ma non è vero perché il termometro l'apparecchio per la pressione ma la TAC la risonanza magnetica tutti gli apparecchi per endoscopia tutta la ricerca sulle vene tutta la ricerca sulle vene non si può fare sugli animali gli animali non soffrono di vene varicose tutta la ricerca estetica tutta la ricerca endoscopica non viene fatta sugli animali se la facessimo sugli animali qualche signora si troverebbe con il viso trasformato in quello di una coniglia non credo che gli farebbe piacere il progresso medico non ci sarebbe stato senza la sperimentazione sugli animali questa affermazione è semplicemente falsa tutto quello che vi ho detto adesso per esempio la risonanza magnetica o la tomografia assiale compoterizzata è assolutamente indipendente tant'è vero che non l'hanno fatta neanche i medici queste scoperte le hanno fatte gli ingegneri non si può fare a meno per gli animali per la dose letale 50 lo diceva Garattini 40 anni fa invece è stata sostituita da una tecnica alternativa non si può fare a meno degli animali in farmacologia non è vero per esempio gli citavo in una ricerca naturalmente non pubblicata mentre quella della Cattaneo di Garattini è stata pubblicata la ricerca fatta in farmacologia per esempio sull'aspirina è ancora oggi apportatrice di conoscenze nuove perché si fa sull'uomo la ricerca che è stata fatta negli anni scorsi sul Pradaxa un farmaco di larga diffusione è stata fatta prima che venisse approvato dal sistema sanitario nazionale è stata fatta in larga parte sulla popolazione non è stata fatta esclusivamente su animali non si può fare a meno degli animali per la pratica chirurgica è assolutamente falso se uno impara a fare pratica chirurgica sugli animali non diventa un chirurgo diventa un norcino e nessuno di voi si farebbe operare da un norcino neanche se fosse bravissimo non si può fare a meno degli animali per la didattica è una cosa anche questa di una falsità indescrivibile non si può fare la didattica sugli animali serve a indurire i giovani studenti alla professione alla crudeltà non serve a imparare qualcosa non si può fare a meno degli animali per i trapianti falsissimo perfino l'attuale sindaco di Roma quando ha pubblicato quell'ignobile articolo sull'espresso ha detto che lui ha contribuito a questa ricerca uccidendo praticamente il babbuino per il prelievo del cuore ma chi ha fatto il prelievo non è colui che poi ha fatto la sostituzione del cuore il perfezionamento della tecnica chirurgica è tutto avvenuto sugli uomini per quello essendo avvenuto sugli uomini è migliorata la sopravvivenza finché si è fatta sperimentazione sugli animali la sopravvivenza nell'uomo non migliorava tutte queste affermazioni dunque sono false e infondate e sono completamente destituite di fondamento dunque mi rimane da concludere con una falsità sempre detta dai vivi settori e cioè che tutte le ricerche su animali vengono effettuate rispettando le leggi io ero presente in Parlamento quando il rappresentante del Ministero della Sanità rispondendo alla mia personale domanda quante richieste di autorizzazione ricevete ogni mese ha risposto da 2 a 3 mila e quante di queste domande vengono esaminate e vengono regolarmente autorizzate è difficile dirlo ma mi dica un numero mi dica un numero anche approssimativo ma direi da 3 a 4 quindi su 2 mila domande 3 o 4 sono regolari tutte le altre sono autorizzate con il sistema del silenzio assenso infine conseguentemente a questi fatti che sono tutti degli errori innegabili l'uomo ha stabilito il principio che sia lecito trattare gli altri animali anche con crudeltà ma non esiste questo principio etico la crudeltà non può essere etica infine vorrei leggervi un breve elenco di chi siamo siamo coloro che vogliono pensare con la propria testa non coloro che vogliono credere non coloro che pensano che una cosa si è sempre fatta e quindi va bene così perché si è sempre fatta siamo coloro che pensano che l'etica debba riconoscere ciò che la scienza scopre e non come fa la chiesa riconoscerla dopo 300 anni e non avere ancora riconosciuto il darwinismo siamo coloro che pensano di andare oltre le barriere di specie oltre la diversità di specie non possono esistere due etiche diverse una per una specie la specie umana e una per gli altri animali siamo coloro che pensano che l'empatia sia stata e sia ancora più importante dell'aggressività per l'evoluzione della specie umana senza l'empatia non ci sarebbe stata la domesticazione del maiale della pecora del cavallo del bue del cane e del gatto se siamo qui oggi siamo qui grazie all'empatia non alla nostra aggressività siamo coloro che pensano che se l'intelligenza l'intelligenza dell'uomo sia nata dalle sensazioni che hanno portato lentamente ai sentimenti e da questi ultimi lentamente alla riflessione e da capire che l'intelligenza ha una componente emotiva essenziale siamo coloro che ritengono assurdo credere che l'attuale situazione rimarrà così per sempre siamo coloro che pensano in una prospettiva evolutiva e non in una prospettiva dogmatica siamo coloro che considerano il non self un fine come dice Kant e non un mezzo per ottenere qualcosa siamo coloro che pensano che questa società sia lentamente distruggendo la natura che sia una specie di suicidio di ferito siamo coloro che pensano che un'etica che dichiara che è giusto torturare un miliardo di animali ogni anno in tutto il mondo è giusto macellare e divorare 70 miliardi di animale ogni anno sia un'etica aberrante e pensano giusto che sia giusto che ci pisciamo sopra grazie per la vostra attenzione grazie il professor Bruno Fedi perché collabora con noi da un paio di anni facciamo conferenze abbiamo fatto anche altre esperienze insieme a lui è sempre molto così accalorato perché le sue affermazioni e le sue posizioni sono appassionate e sentite quindi ti ringraziamo ancora una volta ovviamente ti salutiamo e grazie di essere stato qua se qualcuno ha da chiedere qualcosa tu ti fermi ancora quanto qui quanto rimane lui si ferma qui comunque tanto così noi andiamo avanti quanto basta per rispondere se c'è qualche domanda risponderò a qualunque domanda che riguardi gli animali e la natura se ci fosse il tempo e la pazienza da parte vostra vi farei anche l'elenco delle falsità che si dicono in campo alimentare che sono tantissime ve ne dico una per tutte per esempio che l'alimentazione iperproteica sia un'alimentazione che fa crescere di più i bambini che rende sani forti intelligenti e addirittura rende virili gli uomini fino a 95 anni e anche un po' oltre il che evidentemente è una bestialità detta da qualche novantenne se qualcuno ha da farmi delle domande risponderò a qualunque domanda grazie a tutti